E' finita, anzi comincia dopo l'arresto di Roberto Elge, il numero uno della Camera di Commercio di Palermo, pizzicato dai carabinieri con le mani nella marmellata, mentre incassava parte di una mazzetta da 100.000 euro, l'inchiesta si allarga e punta a individuare il sistema. Una clicca di corruzione e malaffare che, secondo gli investigatori, avrebbe avuto come baricentro l'aeroporto di Palermo intitolato a Falcone e Borsellino, gestito dalla GESAP, società di cui Elge è ancora formalmente vicepresidente e i cui vertici sono stati convocati mercoledì della prossima settimana a Roma dall'ENAC per una disamina dei fatti. L'inchiesta su Elge si è subito intrecciata con un'altra già aperta in procura da oltre un anno, un fascicolo sugli appalti per lo scalo di punta Raisi, reati ipotizzati, associazione a delinquere e abuso d'ufficio. Sotto la lente degli investigatori i ripetuti lavori di ammodernamento nell'aeroporto di Palermo, la gestione degli appalti e delle concessioni degli spazi vendita, gli showroom dati spesso senza gare per assegnazione diretta, uno dei quali era quello del pasticcere Coraggio Santi Palazzolo che ha denunciato la richiesta di tangente per poter continuare a tenere aperto e si è prestato a collaborare con i carabinieri. In un comunicato oggi il commerciante plaude al lavoro degli inquirenti, non si è mai avuto dubbio, non si è mai avuta esitazione nel denunciare, scrive e il suo profilo Facebook si è intassato di post di solidarietà e pubblici ringraziamenti. In quanto vicepresidente di GESAP, Elg percepiva 30.000 euro l'ordilanno che si aggiungevano allo stipendio della Camera di Commercio 46.000 euro e alla pensione. Interrogato in carcere ha ammesso la richiesta di 100.000 euro di mazzetta fatta al pasticcere. Avevo bisogno di quei soldi, ha detto, perché ho la casa pignorata, ma non si è limitato a confessare, avrebbe fatto nomi, avrebbe parlato di altri casi di corruzione. Un profilo double fast, il suo, sotto sotto prendeva tangenti, in pubblico professava l'antimafia, non pagate il pizzo, dicevano i convegni. Adesso è accusato di estorsione aggravata domani davanti al GIP, l'udienza di convalida dell'arresto. Grazie a tutti.